Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti oggi è martedì 24 di marzo 2015 e questa è la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali tra poco in diretta sul canale 17 di Fano TV. Vediamo il santo del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Caterina di Svezia, il sole è sorto alle 6 e un quarto e tramonterà alle 18 e un quarto, il tempo oggi è così così, vedete la fotografia del nostro osservatorio meteorologico alle 7 e 30, mentre la protezione civile, vediamo anche la temperatura, oggi non è freddo, vediamo un po' quant'è, beh 6 e 8. Allora, dicevo il tempo della protezione civile delle marche, avremo per oggi cielo poco nuvoloso al mattino, poi però aumenterà la nuvolosità nel corso del pomeriggio, di sera, in serata, deboli precipitazioni diffuse, più probabili verso la parte meridionale della regione, le temperature minimi sono in diminuzione. Per quanto riguarda la giornata di domani, guardate qua la pioggia diffusa su tutta la regione, avremo anche precipitazioni a carattere di rovescio in progressiva attenuazione, le temperature minime sono in aumento, le massime sono stazionario o in lieve diminuzione. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, invece ancora residui piovaschi nelle zone interne della regione Marche, mentre migliora lungo la fascia costiera. Il tempo sarà variabile per tutto il resto della settimana, con un probabile miglioramento per tutta la prossima settimana. Allora, andiamo a leggere adesso i giornali. Cominciamo dalla cronaca e cominciamo dal resto del Carlino. Un bambino, un bambino di due anni, che si è arrampicato su un balcone ed è caduto giù, un volo di circa tre metri. È successo a Fanano, ne parla il resto del Carlino, che pubblica anche la fotografia del luogo dove è avvenuto questo incidente domestico, questo incidente in casa. La zona appunto è Fanano, il bambino è stato portato in eleambulanza al Salesi di Ancona, non è per fortuna in pericolo di vita. Si è arrampicato, come dicevo, ed è sporto dopo essere sfuggito al controllo della madre, che tra l'altro dai racconti fatti appunto dalla dinamica dei Carabinieri, era lì con, credo un altro piccolo, credo sia un fratellino o una sorellina. Ecco, questa è la storia di cronaca del resto del Carlino di questa mattina. A Fanano invece c'è preoccupazione perché, in particolare per i commercianti del centro, perché dal 13 aprile iniziano i lavori per la sostituzione delle tubature. E va da sé che chi ha un'attività commerciale in centro storico, dovendo passare settimane e settimane con cantiere, il cantiere davanti al negozio, insomma, visti i tempi, c'è da preoccuparsi e fanno bene. Però dal comune dicono non possiamo farci niente, ci sono delle perdite, non si può attendere ancora, dice Paolini, rischiamo altri contenziosi, mentre l'altro assessore, la collega Cecchetelli, una destinazione provvisoria alternativa per gli ambulanti e gli obbisti dell'antiquariato. Insomma, però certamente, vedete la fotografia di questa commerciante Barbara Marcolini dell'Oro di Babette, scrive il giornale, dietro il tratto di corso Matteotti interessato dei lavori, dicono tutti, insomma, che sono molto preoccupati perché potrebbe andare a rischio anche la stagione estiva, perché il tutto dovrebbe finire entro il 30 di giugno, però quando si parte, si sa quando si comincia, ma spesso quando si fanno questi lavori così molto grandi, importanti, non si sa mai quando si finisce. Poi l'altra notizia, invece, è più in alto, di fianco alla testata, è un 23enne, il pirata della Porsche in A14, ricorderete di un fatto di cronaca settimana scorsa, dove due persone sono state ferite, stavano viaggiando su una macchina in autostrada, quando all'improvviso sono state tamponate da questa Porsche, che però non si è fermata, ha tirato dritto. Adesso si è scoperto che questa Porsche era guidata da un anconateano di 23 anni, che aveva fatto sbandare questa Mini lo scorso 20 marzo in autostrada tra Fano e Marotta. La politica, la candidatura di Spacca, per il terzo mandato in regione, divide il centrodestra fanese, per Fratelli d'Italia deve fare il regista esterno. Ancora, da Mondolfo, manifesti funebri pagati con i soldi pubblici, la Corte dei Conti, Bacchetta e il Comune, illegittima la spesa di 460 euro dedicata a dipendenti o ex politici. L'assessore Silvestrini dice che la cifra era in linea con il nostro regolamento, ma d'ora in poi faremo diversamente. Poi, sempre sul resto del Carlino, un trafiletto con l'immagine sorridente di Davide, Davide, il trentenne di Marotta, residente da cinque anni a Miami, negli Stati Uniti, morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente stradale. Lo vedete qui con la moglie, la moglie che durante il funerale ha letto un messaggio straziante. Adesso, scusate, la cerimonia si terrà martedì 24, quindi si tiene oggi, quindi oggi pomeriggio. Poi, una volta espletato tutto quello che c'è nel documento e quant'altro, ci sarà il trasferimento della Salma qui in Italia. Cade, cede la strada di Castel di Mezzo, il San Bartolo crolla per davvero, Manenti e D'Angeli, basta con interventi parziali. La fotografia è eloquente, si vede benissimo il punto in cui è crollata la strada di Castel di Mezzo. Più sotto, invece, albergatori, prova di pace con il comune di Pesaro sulla Notte Rosa, via la Kermesse, via Libera la Kermesse, ma senza eccessi, Belloni rassicura, l'assessore Avremo Zingaretti in piazza e musica classica. Il sindaco che era assente, ancora criticato insieme all'Aspes, chieste pure le pubbliche scuse. Questa è la storia, non stiamo adesso qui a raccontarla, però ricorderete qualche settimana fa il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che esternò in maniera anche forte con quegli albergatori che si dilettavano sempre a criticare e basta. E quindi da lì poi è nata tutta la polemica. Allora, teatro, la fondazione è l'unica difesa dei politici. Torniamo a Fano, la polemica Claudio Giardini replica Walter Adanti. Ricordo ancora l'effetto dei mandati Carnaroli. E poi sotto, anzi più qua di fianco a questa notizia, il sindaco di Fano oggi sarà ad Ancona per parlare ancora una volta di dragaggio, per cercare di trovare una soluzione. La regione, in regione però c'è l'ombra della crisi che si allunga sul porto appunto da dragare. Servono, dice il sindaco, aiuti concreti. Rischiamo di rovinare del tutto la situazione. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. Oggi non c'è il messaggero che evidentemente ha qualche problema con la versione in PDF. Allora, il Corriere di Pesaro, a centropagina, vedete la cronaca, bimbo di due anni vola dal balcone di casa. Il bambino è caduto con il viso rivolto al pavimento e probabilmente nel volo non ha battuto neppure la testa. Anche i primi dentini spuntati c'erano tutti. Segno questo che la posizione in cui è volato giù sembra avere scongiurato conseguenze ben più gravi. Se fosse un giornale, come dire, della parrocchio cattolico avrebbe intitolato Bimbo salvato dall'angelo custode perché visto come è caduto, visto dove è caduto e come insomma alla fine non si è fatto quasi niente. Insomma, un volo di tre metri per un bimbo di tre anni non è poco. Gli albergatori chiedono il ritorno della concertazione nonostante le proteste degli albergatori l'aumento di 30 centesimi della tassa di soggiorno è ormai deciso. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. A Campanara, Pienone, da altri tempi oltre 15 mila presenze all'Expo di Primavera, Caldari. Pensiamo già al 2016. Si parla in questo articolo di un successo straordinario sancito dai numeri ma prima di tutto dalle sensazioni della gente. In tanti, infatti, domenica pomeriggio hanno visitato gli oltre 260 stand di Insieme Sì secondo Expo di Primavera organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara. E ancora, andiamo sulla pagina di fano del Corriere Adriatico. No alla notte rosa, la scelta di aderire non è ponderata. Il presidente della Confcommercio, la Confcommercio è contraria a questa manifestazione pensata per il target di Rimini, non per il nostro. Sottrarrà fondi agli altri eventi. Dunque, il presidente Capecchi lamenta che la promozione è stata fatta sul programma anticipato dall'assessore. Allora, sia la Fano dei Cesari con Corsa delle Bighe, Marcheggiani conferma l'impegno, budget di 50 mila euro, serietà e leggerezza, nesso con il Carnevale. Gli appuntamenti di contorno proporzionati alle sponsorizzazioni. E poi parla Marcheggiani di patrimonio da valorizzare, come quello che abbiamo in giro per la città. Anche nel centro storico, recentemente ha detto Marcheggiani abbiamo liberato la Corte Malatestiana dalle strutture teatrali. Ora lo spazio è completamente libero, disponibile per un sondaggio archeologico con il georadar, che può arricchire le introspezioni già attuate in piazza e in diversi luoghi del centro storico, in cui si nascondono le rovine della Fano del passato. Dopo, sulle rovine di Fano, insomma, ci si potrebbe fare battute su battute, perché, vabbè, allora, con la primavera arrivano i maleducati, i residenti del Lido chiedono un vigilante, dopo il fine settimana ancora una volta sporcizia e danni, sabato bloccato un atto di vandalismo e quindi con la bella stagione poi il fenomeno si accentua, quello della maleducazione, soprattutto nelle zone del Lido. Zona industriale, azione 5 stelle in 4 mosse, dopo la bocciatura e dell'indagine consigliare, chieste sedute su smog, aria, viabilità e sanatoria. Dann resta ancora alla finestra, la politica, segnali da più schieramenti, starò con chi cancella l'azienda ospedaliera. A Guzzi sfumato il sogno di diventare governatore. Ci sono anche dei flash di sport, li leggiamo velocemente, qui ciclismo, Alma Juventus in campo con 59 promesse, poi Elena, medaglia di bronzo al campionato italiano, grande orgoglio e grinta tra gli under 18, stiamo parlando di judo club fano e poi di Vela, il fanese giovanelli, secondo in Coppa Italia. Ancora grazie di cuore e grazie dal cuore per le vostre preghiere, Sonia, la moglie di Davide Bronzini, annuncia su Facebook il funerale che sarà celebrato oggi pomeriggio a Miami, la salma del giovane ristoratore tornerà a casa dove saranno ufficiate altre esecue. Incertezze però ancora sui tempi. Mentre dicono non lo abbiamo ancora potuto vedere, padre Marzio, mamma Marisa, sorella Denise, il cugino Nicola, che ancora non hanno visto la salma del giovane. Sotto, a Orciano, ride dei ladri in una villetta, rubati due Rolex e monili, il colpo messo a segno mentre l'abitazione era vuota, tensione per la presenza di una pistola che poi si è appurato, non era stata rubata. Non hanno nemmeno sfiorato un tablet dalla Apple, dal costo elevato, che era in bella mostra. A Fano denunciato il pirata dell'autostrada, è un giovane senigallese che si è costituito spontaneamente a Mondolfo, civiltà contadina, inaugurato il museo. Momento clou con la messa a dimora della quercia comunale. Chiudiamo con un titolo che, come sempre, riguarda la città della vicina Senigallia. Scippata, si frattura una spalla, derubata mentre era seduta al bar, il ladro è stato scoperto grazie alle spycam. Ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata e a domani.